Come sono le acque dei laghi piemontesi? Dal 7 al 13 luglio scatta la campagna Lago Pulito di Lega Ambiente. I biologi e i tecnici della goletta dei laghi preleveranno e analizzeranno le qualità delle acque dei laghi di Viverone e Maggiore. Solo in Italia e in Francia si consuma la carne di asino, un animale dalle antiche origini, da sempre considerato un ausilio per l'uomo. Domestico, docide, senza tante pretese, basta un piccolo spazio ed il gioco è fatto. In molte parti del mondo però viene maltrattato fino a procurarne la morte. Ignoranza, indifferenza, cattiveria. In loro difesa, a Sala Biellese, un piccolo paese situato sulla Serra Morenica che divide il biellese dal canavese, è nato il rifugio degli asinelli. Un grande spazio nel quale animali sottoposti a maltrattamenti vengono recuperati e curati. L'idea nasce in Inghilterra, sono gli asinelli della regina, senza corona però, ma con le cure che gli ospiti dedicano loro. Decine di bambini con le famiglie possono trascorrere giornate in libertà, imparando ad amare queste mansuete bestiole. Il rifugio aspetta con giochi, caccia il tesoro a te e Masinino e tante sorprese che gli organizzatori capitanati da Barbara Massa mettono in opera. E da Biellese è tutto, grazie dell'attenzione. Grazie.